Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto Super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi vi porto un video un po' particolare perché sì, sarà dedicato a Heating Sound Ma andrò ad assaggiare un iPhone di cioccolato, di cioccolato, di cioccolato, di cioccolato Spero che non abbia un sapore di un iPhone perché in quel caso sarebbe un po' un problema Ma vabbè, prima di cominciare però ragazzi direi di andare a salutare gli apponati Del momento perché non l'ho fatto nel primo video del mese Ahimè, mi son dimenticato quindi lo vado a fare ora Saluto e ringrazio Diablox Alessio 06 Diego Eller Brec Bomber TV Riccardo Sartorel Axon Gabriel Di Player Boom Boom Valentino Marco Ceresa Anonimi Peppe 06 Matteux Tiziana San Bruno Laura Ella Gabriel Danesi Elat Stefani Il Soscino di casa Cristian Fiorenta Tommy Cazza Thomas ASMR Kakarot121 Francesco E Leo Morabito Grazie, 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 grazie A tutti voi che date un supporto aggiuntivo con gli apponamenti Vi ricordo che se anche voi volete farlo c'è il link in descrizione Detto questo io direi subito, 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 subito di cominciare Vedo qui La scatola Di un iPhone Ma Cosa Si celera Al suo interno Andiamolo a scoprire Vedo che Neanche sui iPhone di cioccolato Mettono caricatore E cuffie Diciamo che non ha senso Perché fossero anche loro di cioccolato Finirebbero subito Ma Va bene Queste politiche di risparmio sull'ambiente Dobbiamo rispettarle Tapping sulle confezioni E' sempre una meraviglia E' sempre una meraviglia Bene Direi ora che possiamo aprirlo Olè Eh, anche la pellicola in carta Certo, certo Allora Mettiamo da parte il telefono Mentre qui troviamo le classiche cose Mettiamo questo da parte Perché Quello che a noi interessa E' di certo lui Spellicoliamolo Voila Eccolo qui Credevo fosse senza il tasto home E' un po' diverso Però vabbè Gli manca la tacca qua Ma ci sta, ci sta Tra l'altro Ringrazio davvero di cuore Francesco Mannocci Per avermelo regalato Dalla mia wishlist Bene L'unboxing L'abbiamo fatto Anche se ancora Bisogna superare Questa plastica Quindi Direi di Andarla A rimuovere Anche qui tapping Obbligatori Ovviamente Ma Ho Bene, bene. Allora, munito di coltello, andiamo a rompere questo piccolo pezzo di scotch. Eccoci qua. Voila, siamo riusciti a toglierlo dalla confezione. La mettiamo da parte. Buonissimo, l'odore buonissimo. Parliamo di cioccolato al latte. Eccolo qui. Bene, bene. Eccolo. Eccolo in tutto il suo splendore. Vedete quanti applicazioni già installate? Tapping sul cioccolato. Chi si sarebbe mai aspettato di farlo? Possiamo un attimo da parte del nostro cellulare. Bene, ho qui con me anche un buon bicchiere d'acqua perché credo servirà di certo dopo aver degustato un tipo di cioccolato come questo. Ovvero al gusto iPhone. Bebbiamone già un sorso, va? Ah, sempre ottima l'acqua. Bene, allora io direi di andare ad attentare questo smartphone. Top di gamma Apple. Andiamo. Davvero niente, niente male. Classico cioccolato al latte. Intanto vedete. Chissà se me lo cambiano. Non credo che danni del genere siano coperti dalla garanzia. Ma ci si può sempre provare. Associamolo di nuovo. Allora. 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 tra l'altro vi lascio il link in descrizione qualora vorreste provarlo anche voi è una bella esperienza peccato che la confezione non sia commestibile sarebbe bello trovarne uno che ha tutto commestibile è una bella esperienza è una bella esperienza buon appetito! diciamo che siamo arrivati a metà rimangono le applicazioni più importanti calculator, camera, sms, phone, shop, setting, contact, game e music è stata quasi finita l'ho cancellata diciamo ora cancelliamo anche i games confermo che gli iPhone sono buoni in tutto e per tutto ok 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 sono rimaste tre applicazioni e il tasto home devo dirvi la verità davvero niente male queste tre applicazioni direi che me le lascio per dopo e vediamo anche se il tasto home andrà a funzionare chissà ok spero che questo video un po' diverso diciamo vi sia piaciuto ditemi se vorreste che portassi altri oggetti in cioccolato per sperimentare un po' detto questo detto questo non posso far altro che augurarvi una tranquilla, gioiosa e serena non 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 non